Il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, si afferma con il 77% delle espressioni di preferenza tra gli iscritti al partito sul territorio pescarese. Il successo incredibile della mozione Bonaccini, fanno sapere in una nota gli esponenti del gruppo Energia Popolare, proprio a sostegno del DEM, e la conferma che tra la gente della comunità democratica della provincia di Pescara c'è voglia di scatenare una nuova energia popolare al servizio di un progetto collettivo per un partito plurale, concreto e proiettato al futuro. L'affermazione di Stefano Bonaccini stacca di più di 20 punti percentuali l'altra candidata alla segreteria nazionale Schlein, che è arrivata al 55% del consenso nei circoli di partito. Con Bonaccini al 77%, Schlein al 20%, Cuperlo 3%, De Micheli 0%. 3.205 votanti, di cui 3.196 voti validi, le preferenze per Stefano Bonaccini sono state 1.975, per Gianni Cuperlo 114, per Paola De Micheli 62, per Ellie Schlein 1.045. Questo è l'esito del voto tra gli iscritti nell'ambito del percorso congressuale del Partito Democratico in Abruzzo, comunicato dal responsabile regionale organizzazione Daniele Marinelli. I risultati adesso devono essere certificati dalle commissioni provinciali. I risultati adesso devono essere certificati di sindaco di sindaco di sindaco. I risultati adesso devono essere certificati di sindaco di San Antonio Boperdino. Grazie a tutti.